Si parla di università in consiglio regionale con la discussione e poi l'approvazione a maggioranza del bilancio consuntivo 2022 dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Bilancio che si chiude con un utile di 1.071.000 euro in diminuzione rispetto all'esercizio precedente. Il 20% dell'utile verrà accantonato. Il bilancio passa con voto a maggioranza 24 favorevoli, 11 contrari. Il consiglio regionale contestualmente approva, su proposta della Commissione Cultura, una raccomandazione all'azienda DSU per proseguire nell'impegno avviato per la razionalizzazione dei modelli organizzativi e per un'attenta organizzazione delle risorse. Ad illustrare l'atto la Presidente della Commissione, Cristina Giacchi, che ha sottolineato anche il tema dell'aumento delle tariffe degli alloggi e delle mense. Devo dire che la Toscana ha un orgoglio da mantenere alto, è quello di riuscire a soddisfare ogni anno tutte le richieste di borsa di studio degli studenti che si trovano ad avere i parametri per accedere al diritto allo studio, sia dal punto di vista dell'alloggio, sia dal punto di vista della borsa di studio erogata. Devo dire che il bilancio che abbiamo approvato, che è il Consuntivo 2022, porta anche un utile di un milione e abbiamo chiesto all'azienda di valutare e programmare con maggiore attenzione, perché in questo anno abbiamo anche assistito ad un aumento delle tariffe delle mense universitarie, che ha fatto molto inquietare gli studenti che infatti hanno protestato sonoramente con tutti noi. Devo dire che è chiaro che nel momento in cui si è configurato l'utile era già stata presa la deliberazione sull'aumento delle tariffe. Abbiamo raccomandato all'azienda di lavorare con una programmazione delle risorse attenta a non generare utile e magari a ritoccare e a controllare le tariffe delle mense. Luciana Bartolini per la Lega annuncia il voto contrario soffermandosi sulle criticità dai mancati investimenti sugli alloggi al caro Mensa. Oltre il caro affitto, dovuto anche al fatto, e questo ci ha molto colpito, che la maggior parte dei ragazzi non accetta il postoletto che viene dato, diciamo, con la borsa di studio. Abbiamo anche chiesto di fare un'indagine su questo perché ci sembra che un 52-53% che rifiuta il postoletto dato sia troppo alto come numero. Inoltre i ragazzi si sono lamentati ed è vero perché è stato alzato tantissimo il costo pasto e quindi preferiscono magari non andare a mangiare la mensa ma da un'altra parte. Detto questo noi pensiamo che il problema più grosso sia anche la ristrutturazione di tutte le residenze per studenti e sembra che siano in corso però se ne parla da anni e ancora non siamo arrivati a niente. Quindi abbiamo spinto affinché queste ristrutturazioni vengano fatte nel più breve tempo possibile perché il postoletto deve essere garantito a tutti i vincitori di borsa di studio. Negativo anche il giudizio del Movimento 5 Stelle. Va cambiato il paradigma dell'azienda regionale. Negli ultimi anni c'è stato un peggioramento nell'offerta dell'azienda regionale per il diritto allo studio e questo è un dato di fatto. Lo testimoniano anche tutte le proteste degli studenti universitari in seguito anche all'aumento dei prezzi della mensa e ovviamente noi abbiamo votato contrario. Ma c'è anche da dire che rispetto alle dichiarazioni della Presidente della Commissione Cultura ieri in Consiglio dove ha fatto presente che l'azienda regionale per il diritto allo studio si occupa solo degli studenti meritevoli e bisognosi. Ecco a nostro avviso questo è un problema di fondo perché l'azienda si dovrebbe occupare di tutti gli studenti non soltanto di quelli bisognosi o meritevoli anche per incentivare l'attrattiva delle nostre università su cui si dovrebbe fondare una vera e propria ripresa economica e di sviluppo. Una risoluzione presentata dalla Commissione Sanità definisce gli indirizzi per l'elaborazione del programma di attività dell'Agenzia regionale di Sanità ARSA per il 2024. Il Consiglio regionale approva l'atto a maggioranza con 21 voti favorevoli PD, Italia Viva, Lega, Movimento e Cinque Stelle e Cinque Contrari, Fratelli d'Italia, si astiene la consigliera del PD Anna Paris. Un atto importante che ovviamente va in continuità con l'attività di ricerca che l'Agenzia regionale ha svolto nel 2023 e che ovviamente riguarda, come tutti i cittadini possono controllare semplicemente collegandosi al sito dell'ARS dove sono pubblicati tutti i documenti e i risultati delle attività di ricerca e vanno dai risultati sanitari dei nostri ospedali alle ricerche epidemiologiche a un lavoro importante che tanti cittadini hanno conosciuto anche durante il Covid. Per noi l'Agenzia regionale di Sanità è un punto di riferimento fondamentale perché tutte le decisioni politiche anche fuori della sanità ma sicuramente in ambito socio-sanitario si devono basare su dati importanti, strutturati, ben calzati e calati sul territorio della nostra regione e quindi il lavoro dell'Agenzia è assolutamente fondamentale. Andrea Ulmi della Lega nell'annunciare il voto contrario presenta anche un ordine del giorno sulla medicina basata sulle valore. Ars è un organo molto importante che in commissione noi abbiamo approvato e quindi poi abbiamo fatto voto favorevole in aula anche se ritengo che Ars abbia un compito che ancora noi vorremmo affidargli e cioè questa sanità malata lo dicono tutti, lo dicono i fatti quindi non possiamo pensare che possa essere modificata se non si cambia completamente i paradigmi per cui noi vogliamo una sanità basata sul valore, questo è un ordine del giorno che è stata approvata all'unanimità con l'ultima legge di stabilità e io ho una mozione in discussione adesso dove chiedo che Ars si occupi di fare da capofila per studiare come cambiare i paradigmi sanitari da fee for service a fee for value, cioè non più la medicina basata sulle prestazioni ma la medicina basata sugli esiti della cura. E dentro a questa storia che è la storia di un territorio in realtà troviamo tutti i segni di una storia più grande che è quella del nostro paese e di come in quella stagione si fu capace di far avanzare anche i diritti sociali insomma quindi c'è un pezzo di storia ma secondo me è anche un modo per ispirarci nell'azione contemporanea. Nella sala Fanfani di Palazzo del Pegaso a Firenze è stato presentato il libro intitolato Empoli tra gli anni 60 e 70 scritto dopo un'accurata ricerca archivistica da Edoardo Antonini un focus particolare sulle politiche scolastiche e sociali. Quelle che sono diciamo la costruzione progressiva dello stato sociale e anche dell'incremento delle politiche scolastiche sia come possibilità e opportunità che come proprio spazi anche delle scuole in una città in rapida crescita. Quindi attraverso l'archivio è stato possibile rivivere quel momento cercando di fare poi da spola tra il contesto locale e quello nazionale per non perdere di vista quello che era appunto ciò che avveniva intorno e credo che emerga appunto una città in profondo cambiamento in crescita sia numerica ma anche proprio di diciamo consapevolezza di ciò che poteva fare da un punto di vista industriale ma anche dell'inclusione delle persone più svantaggiate anche con varie problematiche per cercare di essere più equi e più giusti. Il lavoro che Edoardo ha fatto ha messo in evidenza con documentazione è quello che già si conosceva di Empoli in particolar modo la capacità di essere stato laboratorio dei servizi sociali, del welfare, come l'amministrazione di fronte ai bisogni dei cittadini abbia inventato servizi e poi sono strutturati e sono diventati servizi in quasi tutte le parti del nostro paese e ormai sono servizi comuni, la scuola, l'asilo, l'asilo in nido, insomma tutta una serie di servizi per l'educazione, lo 06, quindi veramente una capacità di pensare e di innovare servizi che prima addirittura non esistevano neppure. 200 studenti di 10 scuole toscane, una per provincia, coinvolti nel progetto Carta dell'identità culturale toscana per creare itinerari alla riscoperta di cultura e risorse della regione. È il progetto nato da un'idea del vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli e portato avanti da tutto l'ufficio di presidenza. Nascerà l'opportunità di un interscambio culturale che andrà a valorizzare l'identità dei nostri territori, la conoscenza di un territorio. Saranno i giovani delle scuole del quarto superiore di varie province della Toscana ad ospitare altri ragazzi, loro stessi si faranno interpreti di questi percorsi in altri territori della Toscana. È un interscambio che fa crescere l'identità culturale della nostra regione ma che produce esperienza, che produce relazione e produce delle opportunità. Sarà l'ufficio scolastico regionale a diffondere l'iniziativa alle istituzioni scolastiche della regione. La prossima settimana le scuole superiori della Toscana riceveranno l'invito all'autocandidatura. Il numero 10 ricorre più volte, quindi saranno le 10 province, 10 scuole, 10 attività e 10 anche scambi culturali che prevedono dei viaggi dove ogni scuola si porterà con il proprio progetto, con la propria esperienza all'interno degli altri territori. Si tratta di una modalità molto interessante e supportata in cui crede tantissimo anche l'ufficio scolastico regionale poiché è una didattica innovativa, una didattica molto fresca rivolta alle nostre studentesse e ai nostri studenti. Fondazione Sistema Toscana sarà invece il braccio operativo di questo progetto. Accompagneremo in fase formativa, accompagneremo durante i viaggi i ragazzi in maniera tale da istruirli anche su come redigere al meglio e preparare i documenti, i web document, diciamo tutta la strumentazione dei social e redigeremo un web document finale che poi resterà a beneficio dei prossimi passaggi e infine oltre alla parte di comunicazione e informazione del progetto cureremo la giornata finale conclusiva. Un progetto ha ricordato il Presidente del Consiglio regionale che nasce in attuazione della legge regionale su interventi per la realizzazione delle finalità statutarie in materia di sviluppo sostenibile, cultura e turismo. Tenere insieme la nostra storia, le nostre tradizioni, ma saperle leggere con lo sguardo delle ragazze e dei ragazzi della generazione Z è quello che noi vogliamo proporre oggi insieme all'ufficio scolastico regionale. Antifascista resistente e costituente, un toscano protagonista del Novecento nello spazio espositivo Ciampi. La mostra documentaria su Vannuccio Faralli, nato a Cortona nel 1891 e scomparso a Genova nel 1969, città di cui fu sindaco dopo la liberazione. Avevamo così tante fotografie che la scelta è stata davvero difficile, però abbiamo creato questa sintesi per far conoscere a tutta la Toscana un personaggio che ha lottato per tutta la vita contro la tirannia, contro il fascismo e quindi è un simbolo proprio dell'antifascismo toscano, pagando con le sue scelte le torture dei nazifascisti, il carcere di Marassi, quindi tutto il periodo della clandestinità, la lotta armata. L'esposizione è promossa dalla sezione dell'Ampi di Cortona e visitabile fino al 3 febbraio e comprende circa 90 foto, una decina di documenti e autografi, video, un busto, copia in gesso del bronzo scoperto nel 2004 nelle paese natale di Monsigliolo. Un momento della nostra attività sociale è quello del recupero di figure storiche che hanno contribuito non solo alla lotta di liberazione, ma hanno contribuito anche, come nel caso di Vannuccio Faralli, a cariche istituzionali, nel caso specifico sindaco della città di Genova. Fa bene la Toscana a ricordarlo perché è stato un memorabile sindaco di Genova, ma a parte questo il suo comportamento durante la resistenza fu veramente valoroso, catturato non parlò e quello che è stato poi un famoso ministro del dopoguerra della democrazia cristiana, Paolo Emilio Taviani, ha sempre detto che gli deve la vita perché se avesse fatto il suo nome probabilmente i tedeschi lo catturavano e l'avrebbero fatto fuori. Credo che veramente faccia parte di quella generazione di socialisti a cui guardiamo con grande rimpianto, persone in cui era chiara l'equivalenza socialista persona per bene e Faralli è stata una persona per bene, un grande militante. Personaggio simbolo del Novecento ma allo stesso tempo molto attuale e sottolinea il consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli presente al taglio del nastro. Quest'anno ricordiamo gli 80 anni della resistenza che ha attraversato il nostro paese e soprattutto la Toscana ma siamo anche in una congiuntura dove guerre sono alle nostre porte e quindi parlare di pace e far riferimento ai valori che hanno animato Vannuccio Faralli è veramente una cosa che ci dà grande orgoglio. Una mostra, sottolinea il Presidente del Consiglio, che rispecchia appieno quelli che sono i compiti dell'Assemblea. Un toscano che ha dato tanto. Lo vogliamo fare proprio perché in questi giorni noi stiamo per approvare una norma che sostanzialmente finanzierà iniziative per ricordare gli 80 anni delle stragi nazifasciste, gli 80 anni della liberazione. Il compito delle istituzioni quando iniziano a mancare purtroppo i protagonisti di quel tempo è essere amplificatori di memoria. Grazie a tutti.